Sono entrato come operaio, come aggiustatore meccanico, la chiamavano allora, no? Il mio capo era Levratto, il famoso fratello di quel famoso Levratto nazionale, no? E io ho imparato molto, ero un tecnico stupendo, no? Meraviglioso. E lì il fascismo operava, no? Operava al punto tale al quale io ho conosciuto qualcuno del suo corso rosso, ma sai, e in quei momenti lì era pericoloso anche, sai? In pratica ho lavorato, basta, ho fatto il lavoro da operaio, Poi invece sono diventato un tecnico di prima categoria nell'ILVA, poi nell'Ital City. Poi sono entrato nell'ILVA proprio nel giugno del 45, ecco, nel giugno del 45. E poi sono andato avanti fino alla pensione. Nel 50 viene lo sciopero. Lo sciopero in quanto c'era una situazione che non era tanto buona, c'era degli attacchi ai diritti dei lavoratori, c'era un po' di tutto, insomma, dell'ILVA. E c'era che in forza la polizia è venuta fuori da fuori e bastonava a tutto andare. E noi cerchiamo di fare barriera affinché non ci fosse lo scontro. Ma lo scontro l'abbiamo avuto lo stesso. E allora un po' di terrafuglio c'è stato. Addirittura chi usciva fuori, che non sapeva niente, prendeva una bastonata. In pratica io ho detto spia fascista, l'ho detto come a un certo che era nella fabbrica e che aveva indicato chi dovevano colpire alla polizia. E lì c'è stato molti feriti. E i feriti che erano andati a finire in ospedale poi venivano arrestati. E ne sono stati arrestati parecchi. In definitiva, 14 poi sono stati messi in galera e sono rimasti fino ad aprile del 1941. Cioè da marzo del 50 fino ad aprile del 51. Circa qualche mese in più di un anno, via. E io invece sono riuscito, attraverso alcuni compagni e via del seguito, a rimanere latitante per 14 mesi. Al 14esimo mese mi hanno consigliato di presentarmi e giustamente io mi sono presentato. E la mia presentazione era quella di farmi arrestare e non essere arrestato. E infatti è nato così. Quando a Cugno mi sono presentato, i miei erano già in gabbia e poi sono entrato io. E non avevo avuto la cortessa a dire al presidente della corte d'assisi di Cugno che il latitante si era presentato. Infatti quando entrano alla corte fanno l'appello degli accusati. Fanno l'appello e il mio nome lo citano come latitante. Si sono seduti e io sono rimasto in piedi e ho giustificato. La mia giustificazione è stata quella di riferirmi a gravina perché altri lavoratori a gravina erano stati arrestati ed era stato fatto il processo dopo alcuni anni ed erano stati tutti assolti. E io mi sono presentato perché giustizia veramente si è fatta. Che la colpevolezza, se spia fascista significa bandato di cattura. Perciò ha dimostrato, infatti, il presidente della corte d'assisi non ha nemmeno indicato perfino i miei testi di difesa al quale qualche d'uno finita la faccenda si sono venuti da me e mi hanno detto ma por la miseria, non ha manco ciamoni o altri. Non c'era bisogno di colossale montatura che avevano fatto. Proprio una montatura per levare... Era una strategia secondo me. Li leviamo, tanto sono gente che ci dà fastidio e poi il processo lo faremo. Ma questa era la strategia in quei tempi della guerra fredda che secondo me era sviluppata in tutta Italia. Questo era il problema. Ecco, questo è un dato di fatto. Di fatti, quando siamo andati poi che siamo usciti dal carcere di Cuneo che tra l'altro era un carcere che c'era ancora all'antica il bidone di fare i suoi bisogni te ne tenevi 24 ore in cella eravamo in due celle che ci stavamo per miracolo 8 in una cella e 7 in un'altra cella perché eravamo diventati 15 da 14 che erano ebbene, sul pulmo c'era scritto sono arrivati in tempo per votare e ci hanno portati al Chiavrera che c'è stata una grande manifestazione quando mi hanno portato siccome ero unico di Vado quando sono andato a Vado c'era una piazza piena è arrivato, è arrivato la braccia di mia mamma che povera donna sia durante la guerra e sia poi anche dopo la guerra doveva supportare pensate, era morta da un incidente mio padre che era uno della ceieria dell'Ilva e mio padre il suo compagno che aveva 10 anni in meno era Gimbevilacqua quello che porta in nome la nostra divisione che era un attivista un antifascista c'era dei problemi di licenziamenti eccetera c'era dei problemi se tu pensi che addirittura i guardiani pensa che poi è venuta la legge sui diritti dei lavoratori i guardiani contavano più di un caporepato tipo Levratto perché se venivano lì che ti venivano fuori il posto del lavoro ti prendevano il nome e ti davano la multa e ti dicono uno è il capo uno è il capo del reparto che deve avere quelle funzioni di nome poi è venuto poi cosa c'era una situazione a non finire proprio eravamo su tutti gli aspetti soffocati da questi problemi insomma poi c'era c'era il modo anche i cottimi e via del serio c'era un po' tutto l'apparato sindacale che era messo in discussione eccetera c'era tutti questi aspetti lì pensa che siamo riusciti e guarda questo è importantissimo l'unico che poi nelle lotte siamo riusciti ad avere una farmacia nostra nessuno l'ha avuta e avevamo la mensa no? siamo stati i primi a avere anche la mensa c'era questi aspetti lì capisci c'era un sacco di problemi via l'operaio non era insomma era sotto controllo ma in un modo terribile sono andato via ci sono stati gli arresti subito ecco gli arresti e poi io ero in casa di magliotto nascosto cento cento persone per riuscire a scappare mobiliti le team cento persone a vado eh con una moto targata numero 8 fai te c'è il problema di riuscire a scappare è una comica in certi sensi e quando sono scappato via sono andato direttamente lì in quella miniera di legnite è già tutto provveduto sono riuscito a rifarci bene e via di seguito ecco che poi quando sono scappato da lì hanno avuto i miei parenti e qualche annullante hanno avuto dei problemi no? per i se io ero uno che faceva le le riunioni segrete di Ciciellola capisci? nel partito comunista sempre momento non durante il fascismo durante eh perché c'era una una posizione verso i comunisti evidente che c'era no? come anche anche per fare carriera di un comunista di bello che ho fottuto no? ecco e facevamo le riunioni delle cellule lo stabilimento era diviso in cellule la produzione dell'ilva per esempio no? era bellica no? evidente facevano i bossoli per 149 22 per le varie armi no? ecco e e lì caro mio bastava bastava che si guastasse una macchina che era colpa di qualcuno che sabotava no? c'era un problema di questo genere ti rendeva un po' la questione dovevi essere attento perché guarda la minima cosa che succedeva a Dio che veniva addosso a te addirittura anche se uno non eri colpevole di niente ecco c'era una situazione disastrosa insomma disastrosa in tutti i sensi no? e poi c'era la guerra fredda era una guerra fredda c'è poco affare noi mangiavamo i bambini c'è poco affare eravamo quei punti lì no? quando eravamo 10.000 c'erano 30 consiglieri no? su 30 consiglieri il Partito Comunista ne aveva 19 19 se 7 se andavano a fare il bagno avevano la maggioranza no? bastavano 12 perché gli anni erano 11 no? e c'era una forza consistente no? consistente sia nella resistenza e sia nel dopoguerra no? c'era un rispetto un rispetto enorme tra i partiti non erano dei nemici guarda io quando sono andato nelle scuole c'erano tutti i partiti posso fare i nomi perché li conoscete vado gli studenti erano 815 nota bene perché allora sai venire da Zinone da Cugliaro tutte le parti venivano vado mi propongono di fare il presidente nel 74 parlo gli organi collegiali della scuola no? io rifiuto ho indicato il democristiano che era minoritario io ho ricevuto un cancio negli stinchi e io insistevo giù il caso negli stinchi mi hanno fatto venire quello nello era un mio compagno che non capiva la strategia che io avevo fatto no? difatti poi mi ha detto su ma cosa ti devo accettare se manunzio perché se andavamo alla votazione ero letto no? non c'era problema ma io volevo l'unanimità no? allora sto manunzio dice no no è giusto rappresenta la maggior forza via di seto ho fatto un discorso che io me lo immaginavo subito l'ho indovinata no? non lo deve farlo per te la strategia ha funzionato ho avuto l'unanimità sto qui era un operaio che anche se aveva la frebber poi dicono lavorava si vede facevano i cingoli per i trattori di qualsiasi tipo e maggiori forniture le facevamo per la Fiat e poi per tutto il resto e c'era un furfè a Cotibolo perché c'erano sia il 50% che non li passavi ma dovevi passarli tutti e qualche uno dovevi correggerlo dando uno spunto così e ci stavano bene un bel giorno viene il capoturno e dice Giorgio mia un mitraglia sai perché lo chiamavano mitraglia? guarda una cosa ridicola mi dico anche questa perché era un tornitore no? aveva chiuso male il pezzo no? attaccando la macchina il pezzo è andato via no? ha fatto un perché girava 1500 giri è partito questo pezzo e c'erano della gente che lavorava in edilizia che facevano una specie di capannone eccetera no? e c'era un buratore questo pezzo c'era arrivata nella caretta per esempio lo ammazza c'era arrivata nella caretta no? e allora da quel momento li l'hanno chiamato mitraglia ha più fatto sto nome di mitraglia però era un ragazzo che lavorava ma lavorava ti dico se non doveva stare a casa e mi dice mi ha la cucina e gli ho detto stai sentendo a due o a due quando ho il cangio mi metto l'eru e ci ha metto di due quello e l'altro per farla breve ho detto guardate a te ti do due libretti perché ne puoi perdere uno e due penne perché puoi perdere anche una penna no? tu per una settimana e anche più tu non devi toccare uno di quei cingoli devi contarli solo e lui deve fare la sua giornata e la tua giornata io non ne do sospensioni e mi dice multe e cosa e questo guarda io da quel lato lì magnano magnano mi dice il giorno ti è il fenomeno